Siamo al corso base di formaggi vegetali, siamo qui a preparare tante ricettine, abbiamo qui tante cosine, abbiamo preparato la mozzarella, dobbiamo preparare i fagioli, sentono il profumo dello stracchino vegano. Abbiamo preparato lo stracchino vegano, eccoci qui, con Francesca, che ne pensi di questi formaggi? Sono buonissimi! Grazie! Siamo a Lava, abbiamo fatto il corso di formaggi vegetali e siamo qui con tanti amici. E tante cose buone da mangiare, polpettine di melanzane e quinoa, poi abbiamo preparato la pasta cavatoni con zucchine e stracchino che ora verserò. Insalata ricca, salsetta formaggiosa, la ricotta...